In questo panel che è sull'MMT e su altre teorie umanitarie opinabili abbiamo tre grandi esperti che sono Tommaso Monacelli, il professor Lippi e il professor Favero che sono qui, ho appena levato la chiavetta, scusate che è una cosa tra me e quindi per me siamo due ultra dell'Inter. E' per quello che mi sono preso questa confidenza non dovuta, ma è ovviamente il professor anche Tommaso e si sono divisi i compiti per parlare un pochettino di tutte le fake news che girano sulla moneta come oggetto traumaturgico che tutto guarisce, diciamo così, o che è causa di tutte le malattie dall'altra parte. E quindi cedo volentieri a loro la parola perché sicuramente sono persone qualificate per parlare. Non so come... Parlo da qua, ok. No, 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 va bene, parlo da qua, va benissimo, non ho così sto fermo, che è meglio. Allora, grazie Gianluca, grazie dell'invito. Quello che cercherò di fare è parlare di miti che riguardano la moneta, ma non in generale, penso che Francesco lo farà più in termini storici per ciò che riguarda la relazione tra la moneta e il potere d'acquisto. Io qui lo farò più dal punto di vista della cronaca dei giorni nostri, ma giorni che sono appunto influenzati da una certa mitologia su ciò che la moneta può fare, su ciò che le banche centrali possono fare come se non esistessero vincoli alle risorse e che se solo un paese, una comunità umana potesse avere a disposizione la possibilità senza vincoli di stampare la propria moneta, potrebbe raggiungere magnifiche sorti e progressive comunque. Qui non siamo riusciti tecnicamente, questo è un, non so se conoscete questa serie di Netflix che è La Casa di Carta, c'è un estratto, che però non riusciamo a mandare in audio, in cui il professore, è la storia di un gruppo di terroristi che sono quelli sulla destra, che conquistano la, prendono in ostaggio la zecca della banca centrale spagnola e stampano moneta go go. E questo professore in questo video di fatto dice perché noi dobbiamo essere considerati cattivi solo perché stampiamo tutta questa moneta perché poi la vogliamo dare al popolo, quando invece la banca centrale europea nel 2012, 2013, 2014 fa tutte le cifre della presunta gigantesca stampa di moneta attraverso il quantity of easing che la BCE avrebbe fatto, facendo quindi il punto del perché loro devono essere considerati cattivi quando stampano moneta per poi distribuirla alla gente, mentre invece la BCE che ha stampato tutta questa moneta l'ha data alle banche, ma nessuno dice che la BCE è equiparabile ai terroristi. Quindi questo vi invito a guardarlo. Quindi il primo grande mito di cui vorrei parlare in questi 15 minuti, insomma, facciamo, sì, sì, è quello della moneta, cioè, o meglio dire, del ruolo che le banche centrali hanno nel creare, si pensa, risorse dal nulla. Cioè è vero che le banche centrali stampano moneta dal nulla e un altro mito collegato, che invece coinvolge i governi, lo Stato, e cioè se sia vero che se allora un paese ha una banca centrale indipendente che può stampare tutta questa roba qua, se è vero quindi che uno Stato non ha di fatto dei vincoli di bilancio. Questo si collega al dibattito sulla MMT, perché, che cos'è questa MMT a cui accennava inizialmente Gianluca? Insomma, è questa idea che noi possiamo finanziare grandi programmi di spesa pubblica, sta sorgendo nella campagna elettorale americana, possiamo finanziare questi grandi programmi di spesa pubblica senza particolari costi fiscali, perché li possiamo finanziare stampando moneta. Ok? È l'idea proprio della possibilità di finanziare in modo più o meno permanente il deficit. Allora, questa idea che le banche centrali stampino moneta dal nulla, è un'idea un po' ossessiva, per chi di voi frequenta i social network, è un'idea che nella galassia dell'economia sovranista italiana ricorre tantissimo, e se volete è una sorta di substrato ideologico che giustifica di fatto l'idea che se invece l'Italia potesse, siccome non lo può fare nell'euro, potesse farlo indipendentemente, autonomamente, fuori dall'euro, stampare moneta dal nulla non costa niente e quindi non c'è vincolo, o come ha detto qualcuno, il vincolo della limitatezza delle risorse è sopravvalutato. In realtà, creare moneta che cosa vuol dire? Che creiamo proprio di base, non vuol dire niente, l'idea che la banca centrale europea, la banca centrale stampi moneta dal nulla, di fatto non vuol dire niente. Quando si dice, tra virgolette, che una banca centrale crea moneta, vuol dire di fatto fare un'operazione di bilancio, vuol dire che una banca centrale accredita, che ne so, la banca popolare di Novara, crea 100 euro di riserve, che quindi diventano una passività per la BCE, per la banca centrale, che quindi è come se mettesse un deposito, però dall'altro lato la banca centrale acquista dei titoli dalla banca popolare di Novara. Quindi, in questa idea del creare moneta, ogni banca centrale di fatto garantisce sempre che a un euro di cash o di riserve sul proprio lato del passivo, corrisponda un euro dal lato dell'attivo. Quindi, vedete, basta già vedere le cose in termini di operazione di bilancio, che se una banca centrale fa questa cosa qui, cioè decide di accreditare alla banca popolare di Novara 100 euro di riserve e acquistare i titoli, questo vuol dire dare soldi alle banche, decidete voi. È un'operazione di bilancio in cui si muove il lato delle passività, perché io di fatto emetto un deposito chiamato riserve, e si muove anche il lato delle attività, perché io compro dei titoli, di solito titoli di Stato, dalla banca popolare di Novara. Vuol dire dare dei soldi alle banche? Decidete voi. Il secondo aspetto per cui questa frase mi risulta insopportabile, cioè l'idea che le banche centrali creino moneta dal nulla, è che di fatto non è vero che le banche centrali creano moneta. Le banche centrali, secondo anche quello che ho detto prima, creano base monetaria, non moneta. L'operazione di bilancio che ho descritto prima, con la banca popolare di Novara, di fatto è una creazione di riserve. in cambio di attività che la banca popolare di Novara dà alla banca centrale europea, titoli di Stato o altre attività. Questo vuol dire creare base monetaria, quello che normalmente viene chiamato moneta della banca centrale. Ora, perché questo è importante chiarirlo? Perché ciò che viene considerato appunto questo, base monetaria, e ciò che più normalmente si intende con moneta, possono essere due cose molto diverse. Lo vediamo per esempio per la banca centrale europea, l'andamento della curva blu è la base monetaria, quella che risulta proprio dall'operazione di bilancio di cui dicevo prima, la banca popolare di Novara mi dà 100 di attività, io accredito 100 di riserve, ma quello che è moneta, quello che è moneta, che è un aggregato molto più ampio, e che passa attraverso i depositi delle banche private, attraverso il cash e via dicendo, è un aggregato che può essere molto diverso. Quindi quando si dice, le banche centrali, lasciamo perdere, creano moneta da nulla, ma creano moneta, di fatto creano base monetaria, ma quello che ha fatto la BCE, se volete, attraverso le proprie operazioni di bilancio, chiamate quantity of easing, che è quello che di fatto ho detto prima, comprare dalle banche delle attività ed emettere delle riserve, non si è riflesso in un'espansione monetaria significativa. Il perché, ci torniamo dopo, perché velocemente cercherò di parlare del Giappone, però abbiamo sempre molto attenti, quando si dice, la BCE ha creato un sacco di moneta, un sacco di liquidità, chissà che cosa potremmo fare, se la BCE ne facesse di più, in realtà, questa grande espansione monetaria non c'è. Quello che ha fatto la BCE è creare una grande espansione di base monetaria, non di moneta. Ma c'è di più, quindi sto cercando, cos'è che sto cercando di fare, un po' concentralmente, di mettere un po' un limite logico, un po' di disciplina su questo mito che le banche centrali creano moneta dal nulla. Di fatto fanno operazioni di bilancio e creano base monetaria e non moneta. La creazione di moneta passa attraverso il sistema privato, delle banche, gli scambi tra gli operatori privati, eccetera. Il secondo limite a questo concetto molto confuso, ma che è molto appetibile, cioè che le banche centrali creano moneta dal nulla, è che una banca centrale non può stampare moneta ad libitum. Qui non approfondisco perché secondo me qui andirà molte cose Francesco, ma di fatto perché offrire una quantità infinita attraverso queste magnifiche sorti progressive di moneta vuol dire minare la fiducia che il potere d'acquisto della moneta stessa può avere. Cioè di fatto è come dire più ne creo, più ne brucio. Quindi esiste proprio un limite intrinseco alla possibilità di stampare moneta dal nulla e ad libitum, all'infinito. E quindi è un concetto appetibile, ma falso, vuoto. Ma di questo parlerà, cioè del legame tra potere d'acquisto e fiducia e moneta, parlerà bene Francesco. Quindi esiste un limite allo stampare moneta ammesso che abbiamo adesso definito che cosa vuol dire stampare moneta, vuol dire creare base monetaria e non necessariamente moneta. Ed il limite è la condotta della politica monetaria con i propri obiettivi, il proprio statuto di una banca centrale secondo obiettivi che possono essere diversi da paese a paese. Questo per riportarci un po' alla cronaca. Questo è il viceministro degli interni. Vedete quanto è abusato nel dibattito pubblico l'idea dello stampare moneta. E qui vengo al terzo punto che è relativo al deficit. La possibilità di stampare moneta per finanziare il deficit non è stata considerata neanche dai paesi che fanno parte del mercato unico, ma non sono parte dell'euro. Questo dice il viceministro Sibiglia riferendosi a Draghi, dice ecco, stampare moneta se lo dice Draghi si può, se lo dicono gli altri vuol dire che sia ignorante, idiota, folle. Vedete quanto è radicata nella nostra classe politica l'idea che se solo noi ci liberassimo di queste catene e potessimo stampare moneta non avremmo tutti i problemi che abbiamo. Allora, ultimo aspetto sul mito sul mito dello stampare moneta se fosse anche vero quindi se fosse vero che noi possiamo stampare moneta ad libitum questo vuol dire che uno Stato non ha un vincolo di bilancio questo è un po' proprio il mito della moneta salvifica cioè che praticamente rende irrilevante i vincoli fiscali per uno Stato non possiamo finanziare qualsiasi cosa non abbiamo bisogno di raccogliere tasse quindi uno Stato potrebbe sempre finanziare maggiore spesa pubblica stampando moneta no? Cosa potrebbe fare? Cioè potrebbe decidere di spendere trilioni ogni anno in programmi di spesa pubblica finanziare questa spesa pubblica emettendo titoli di Stato ma lasciare che sia la banca centrale di fatto che acquisti questi titoli di Stato quindi possiamo immaginare una monetizzazione permanente del deficit allora qui è molto importante sfatare un altro mito e cioè che si scontra con un punto di logica economica fondamentale cioè le obbligazioni fiscali di uno Stato cioè quello che uno Stato deve poi se acquisisce dei debiti quello che uno Stato deve restituire sono mele non sono soldi non sono moneta cioè che cosa vuol dire? Vuole dire che le obbligazioni fiscali di uno Stato sono sempre di tipo reale non monetario ancora che cosa vuol dire questo? Vuol dire perché le obbligazioni fiscali di uno Stato sono sempre mele cioè unità di beni perché immaginate uno Stato che prende a prestito appunto quando finanzia il debito pubblico prende a prestito risorsi dai cittadini se io presto un'unità di moneta un euro allo Stato quando acquisto BTP diciamo di fatto sto rinunciando usando quell'euro e prestandolo allo Stato quindi euro un'unità di moneta sto rinunciando a comprare qualche bene reale e allora io come minimo in ritorno che cosa voglio? altrimenti non presterei mai un euro allo Stato voglio qualcosa che sia paragonabile in termini di unità a quel qualcosa di reale a cui io rinuncio se presto un euro allo Stato cioè le mele se io presto un euro allo Stato rinuncio ad acquistare mele con quell'euro e quindi il ritorno dallo Stato non voglio euro voglio mele ok allora ecco perché c'è un limite intrinseco fondamentale all'idea che le banche centrali stampando moneta abbiamo già capito meglio che stampare moneta è un concetto molto vago esiste un limite intrinseco all'idea che le banche centrali possono monetizzare permanentemente il deficit di un paese perché? perché le banche centrali non producono mele le banche centrali stampano moneta tra virgolette non stampano mele per stampare più mele che è quello che lo Stato deve poi restituire a voi se gli prestate dei soldi quando comprate i BTP eccetera per creare più mele bisogna bisogna irrigare i campi bisogna avere buone tecnologie ci vuole lavoro ci vuole capitale eccetera quindi l'idea di fondo che il deficit e quindi l'accumulazione di debito possa essere permanentemente finanziata stampando moneta è falsa ultima cosa e prendo spunto da un dialogo tra un giornalista e un politico e questo ha a che fare con la sovranità monetaria cioè con l'idea che e quindi questo è un altro mito che se un paese di fatto è sovrano può stampare la propria valuta sovrana di fatto non possa mai fallire che poi è un po' quello che ho detto prima cioè non potrò mai fallire sul mio debito pubblico se posso stampare moneta è un'idea falsa perché le banche centrali non stampano mele ma stampano euro se mi passate il concetto di stampare di stampare moneta quindi questo giornalista questo politico dialogano e questo politico che è un politico abbastanza è quel politico che ha avuto questa questa bella idea dei dei mini bot il dice il default il default del titolo sovrano il default dei titoli sovrani del debito pubblico è un mostro creato dall'Unione Europea pensate a quanto quanto pervasive sono anche nel dibattito pubblico queste idee nessuno può avere per esempio dubbi sul fatto sul rischio di default della Danimarca sul proprio debito pubblico non esiste la possibilità cioè perché perché al massimo i danesi possono temere che la corona cioè la corona danese la valuta danese si svaluti ma non che possa venire a mancare perché perché la banca centrale danese può sempre stampare corona vedete questo si scontra esattamente con con la proposizione sulle mele e sugli euro di cui ho detto prima non è vero che se io posso sempre stampare corone posso sempre evitare il default di uno stato no? perché una banca centrale non stampa mele una banca centrale stampa euro o stampa corone e ma le obbligazioni fiscali quello che lo stato deve restituire non sono euro sono mele quindi questa questa argomentazione che è una delle obbligazioni più forti nel nostro dibattito pubblico sull'idea che noi dobbiamo recuperare la nostra sovranità monetaria e in modo tale da rendere irrilevante il problema del debito pubblico è falsa è falsa allora e il Giappone allora il Giappone è un paese sovrano che quindi può stampare la propria moneta ha un debito pubblico in percentuale del PIL e si ritiene il doppio del nostro e quindi il Giappone non è un esempio del fatto che questo si possa fare allora innanzitutto avere la possibilità di stampare la propria moneta insisto sulle virgolette non assicura bassi tassi di interesse sul proprio debito cioè no? l'idea qui è ma come il Giappone può stampare la propria valuta ha tassi di interesse sul proprio debito risibili e ha un debito pubblico che è il doppio del nostro quindi si può fare basta uscire dall'euro basta avere la nostra sovranità monetaria lo so la Turchia ha avuto tassi di interesse il paese con la propria valuta sovrana tassi di interesse del 50% all'anno sul proprio debito negli anni 90 ma prendiamo due i casi secondo me sono molto utili da confrontare sono l'Ungheria e il Giappone entrambi sovrani paesi con la propria valuta sovrana no? e come mai l'Ungheria ha un debito pubblico del 70% del PIL e ha uno spread con i Bund quindi un tasso di interesse un costo del debito rispetto ai Bund tedeschi che è di 300 punti base quindi più alto dello spread che ha in questo momento l'Italia che è leggermente ridisceso a 240 punti base eppure l'Ungheria è un paese sovrano e invece il Giappone ha un debito del 250% del PIL e ha uno spread con i Bund di 12 punti base no? entrambi sono paesi sovrani possono stampare la propria moneta ma hanno esiti completamente diversi c'è proprio debito basso tra virgolette spread alto debito alto spread molto basso già questo argomento logicamente vi dice che l'avere una valuta sovrana è un argomento di tutto irrilevante infatti è un argomento falso per dire che il debito è sempre sostenibile potendo monetizzarlo e la ragione per esempio che spiega il Giappone è che per esempio il Giappone è un paese rispetto all'Italia che ha molta più il cui debito è probabilmente ritenuto molto più sostenibile di quello italiano nonostante sia così grande perché per esempio il Giappone ha molto più spazio fiscale dell'Italia cosa vuol dire? se voi confrontate il livello della spesa pubblica in Italia del 49% del PIL in Giappone del 39% se pensate alle tasse allo spazio di incremento delle tasse che il Giappone ha per esempio le tasse le VAT le tasse l'IVA è del 22% in Italia e forse chissà ancora di più in autunno è dell'8% in Giappone se voi guardate al livello della tassazione il rapporto della tassazione complessiva sul PIL in Giappone la linea orizzontale sono i paesi OX e il Giappone è del 30% del PIL cioè quanto pesano le tasse sul PIL in Italia del 42% cioè è anche molto facile spiegare perché il Giappone nonostante abbia un debito così alto il perché possa essere visto come più sostenibile perché chi compra il debito pubblico giapponese sa che eventualmente non stampando moneta ma incrementando le tasse il Giappone ha molto più spazio di noi per poterlo sostenere quindi questo è anche a sua volta un mito il Giappone non sta facendo in realtà il paese di Bengodi con l'espansione fiscale più grande del mondo questo è un grafico del primary balance del Giappone cioè del deficit ma quando positivo è il surplus di fatto è dal 2010 che il Giappone ha un surplus primario fiscale positivo cioè si sta ponendo molto il problema della stabilizzazione del debito nel dibattito pubblico giapponese e dei policy maker è molto molto presente l'idea che le tasse andranno aumentate probabilmente molto presto per poter sostenere il debito e questo è uno dei motivi per cui il Giappone non ha inflazione perché è molto insita e qui Francesco parlerà molto di aspettative l'aspettativa futura sul fatto che ci sarà una forte contrazione fiscale in Giappone quindi non solo ci sono aspettative di forte contrazione fiscale in Giappone possibilmente in futuro ma non c'è neanche una grande espansione monetaria se qui torno e chiudo il cerchio e ho finito se qui veramente prendiamo seriamente la distinzione tra creazione di moneta intesa come creazione di riserve di moneta della banca centrale e moneta vera e propria quindi la differenza che ho fatto all'inizio tra base monetaria e moneta e voi prendete la moneta questo indicatore M2 per il Giappone questo è il tasso di crescita del Giappone dell'M2 in Giappone cioè della quantità di moneta in Giappone da 1990 è praticamente stabile intorno a zero non c'è nessuna espansione monetaria in Giappone ecco perché non c'è inflazione in Giappone non perché in Giappone è un paese sovrano quindi questo chiude il cerchio su una serie di miti però questa è una slide molto seria secondo me sul momento storico che stiamo vivendo perché il rischio che noi viviamo questo è il mito della caverna di Platone ve lo ricordate? ci sono persone intrappolate che però da sempre dalla nascita ciò che hanno imparato della realtà sono solo queste ombre che vengono proiettate attraverso un fuoco sulla parete della caverna e quello che un po' tutti questi miti vogliono farci vedere è esattamente solo questo ricordatevi che nel mito della caverna di Platone chi cerca di uscire liberi oltre chi cerca di liberarsi questi uomini che escono fuori poi ritornano dagli uomini imprigionati da sempre nella caverna e raccontano loro che la realtà non è queste ombre proiettate la realtà è un'altra e sapete cosa succede a questi uomini che rientrano e raccontano com'è la realtà veramente vengono uccisi ok quindi attenzione a che cosa vogliamo essere adesso non voglio esagerare ma siccome il paese non sta andando proprio in una direzione veramente promettente se vogliamo rimanere imprigionati qua vogliamo liberarci e vedere la realtà com'è veramente grazie 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 Tommaso professor Monacelli grazie mille era bellissima soprattutto l'ultima slide nel senso che hai beccato il filosofo giusto adesso proseguiamo con il professor Francesco Lippi vado grazie allora grazie di questo invito quando mi è stato chiesto di fare un intervento in questo dibattito cosa che faccio sempre molto volentieri cercare di condividere un po' di informazioni di idee su quello che noi professionalmente facciamo con un pubblico più grande non necessariamente di esperti però vi dico sinceramente che siccome lo faccio da un po' mi viene sempre il dubbio se valga la pena farlo o no perché per quanto sia meritoria l'idea di parlare a un pubblico in gran parte non vi conosco tutti ma in gran parte di non esperti è anche una cosa molto rischiosa l'economia un po' come la medicina ci tocca a tutti da vicino quindi spesso molti di noi siccome ci tocca da vicino pensano anche di avere delle conoscenze in medicina è facile pensare a tanti esempi purtroppo la conoscenza quella più affidabile secondo me e secondo molti quella che viene dalla scienza da un metodo sistematico da analisi sistematica di dati è un po' dura da digerire nel linguaggio di tutti i giorni per cui vi dovrete un po' fidare io ho cercato in questi incontri chi presenta due scelte essere un po' apodittico sparare proposizioni risultati fidatevi e quando si fa il tifo magari piacciono o essere molto noioso il terreno di mezzo è un po' rischioso io ho cercato di prendere un po' un terreno di mezzo perché la mia speranza pensando a un incontro così era che magari le persone che vengono hanno delle domande in mente su moneta inflazione quali sono i fattori importanti chiaramente non si risolvono in mezz'ora molti di noi ci lavorano da 30 anni hanno ancora un sacco di dubbi però diciamo i dubbi che ci sono tra di noi sono molto meno dispersi di quelli che ci sono nel grande pubblico per esempio nessuno di noi pensa che facendo andare delle macchine stampando a go go si possa risolvere la sorte di un paese quindi questo preambolo perché vi presenterò un modellino con uno schemettino concettuale incredibilmente naif non pensate che faccio questo di lavoro cioè faccio comunque una cosa così insegno però questo schemettino è semplice nella speranza che voi diciamo quello che vi rimanga in testa non è solamente ha detto che e quindi siccome l'ha detto lui che è un professor ma un po' il ragionamento quindi il tema che voglio toccare è quello del valore della moneta che è il tema che ha toccato anche anche Tommaso cioè come mai che cos'è che dà valore a questi pezzi di carta o numeri su un conto corrente è un problema complesso perché come con la valutazione di tutte le attività finanziarie è un problema che nel momento in cui ci si inizia a pensare si capisce che coinvolge aspettative sul futuro e siccome il futuro non lo conosciamo è un problema difficile cosa voglio dire se i bambini lo sanno bene quando fanno il mercatino a scuola e qualcuno gli dice dai dammi il tuo cioccolatino così ti do un pezzettino di carta un euro un bambino vede il cioccolatino ma il pezzo di carta un bambino piccolo non lo capisce perché lui pensa al cioccolatino noi siamo così abituati a questi pezzi di carta che quando vediamo un pezzo di carta già nel nostro cervello scatta l'idea io prendo il pezzo di carta e poi dopo domani lo do a qualcuno perché ho detto dopo domani perché nei mercati quando mi danno un pezzo di carta o nel mio esempio avevo pensato un servizio supponete che siamo in coda per comprare uno ski pass lo ski pass è un pezzo di carta cosa mi dice a me quanto vale quello ski pass beh nella mia testa mi faccio delle idee uno ski pass o un'azione non so un titolo di Goldman Sachs quello che volete io mi immagino il mio ski pass supponiamo una cosa semplice due periodi lo uso domani per me vale uno non so un euro cento euro lo uso dopo domani vale due dico vabbè lo pago due mi sembra un prezzo giusto in questa valutazione del mio valore di questo oggetto la stessa cosa per la moneta fatta oggi ho dovuto processare nella mia testa due periodi per semplicità potevo mettercene molti supponiamo adesso che io dica lo prendo oggi lo ski pass domani però ho già un impegno non posso un'altra persona ha un impegno non può sciare quanto vale se domani vale zero quale sarà il prezzo beh dipende dipende da cosa dipende da quello che metteremo nella testa di quella persona sul valore di dopo domani per esempio un esempio stupido se quella persona dopo domani pensasse che vale due anche lui sarebbe disposto a pagare due ok è abbastanza stupido no? è semplice però qual è il punto di questo esempietto che per fare una valutazione oggi di quanto vale questo pezzetto di carta devo farmi un'idea di cosa succederà nei periodi futuri e per esempio qui ci sono due esempi di due sequenze diverse ma che danno origine allo stesso valore perché in qualche modo in media 1 più 1 o 0 più 2 fanno la stessa media se invece pensassi a un'altra sequenza in cui domani vale 1 ma dopo domani vale 0 avrei un prezzo diverso questa banale logica intertemporale che unisce due elementi le aspettative devo farmi un'idea sul futuro è sempre così tutte le volte che valutate un titolo finanziario e la moneta è un titolo la morale è che la risposta alla domanda che sta là su in cima cosa determina il valore della moneta richiede di formarsi nella testa una sequenza di dati non un numero perché è importante questa cosa di che sta parlando spesso sentiamo dire ah guarda l'espansione monetaria del quantitative easing che non c'è stata ma supponiamo che ci sia è facilissimo scrivere un modello in cui io potrei posso inserire infatti io l'ho scritto ma non è che sia originale l'ho scritto in tanti potreste fare un'enorme iniezione monetaria o un annuncio di un'iniezione monetaria e quindi magari mettere qui un numero grande diciamo e allo stesso tempo ottenere costante questo valore perché perché mentre la fate dite ma dopo domani la disfo quindi il principio che sta dietro queste idee di valori attesi su archi di tempo lunghi è che chi vi guarda chi fa i prezzi di queste cose non guarda solo l'oggi l'istante ma si fa un'idea di che sta succedendo in media o di quello che succederà vedrete che questa semplice considerazione ci può aiutare a capire alcune situazioni particolari quindi se siete d'accordo com'è che il valore di oggi di questo oggetto moneta dipende da una sequenza di eventi futuri diciamo che fin quando questa sequenza di eventi per esempio quanta moneta stampo rimane in media sotto controllo tutto ok per esempio una conseguenza è che quindi le espansioni monetarie non hanno un grande effetto sul valore della moneta se si annuncia che sono temporanee attenzione secondo elemento importantissimo si annuncia che sono temporanee chi lo annuncia come si fa ad essere sicuri che le espansioni sono temporanee qui c'è un elemento fondamentale che si chiama credibilità è un elemento legato a doppio filo con la politica monetaria ed è un elemento cruciale che in questi giorni sta tornando di moda sul dibattito col quale voglio chiudere tra poco sull'indipendenza della banca d'italia come garantire questo processo del fenomeno annuncio è un processo fondamentale perché immaginatevi nell'antichità nella storia immaginatevi quando ci insegnano a scuola i fenici i primi mercanti che prendevano degli oggetti così una pallina d'oro o le lettere di credito dei banchieri fiorentini del medioevo vi immaginate dare delle merci contro un pezzo di carta avete molta paura chissà se questo pezzo di carta avrà valore o no quando io andrò a riscuoterlo quindi nel passato la storia ha dato una risposta molto semplice a questo problema usiamo una moneta che nessuno può andare a manipolare cos'è? beh qualcosa di difficile da trovare ci sono tanti esempi l'oro conchiglie rare nelle isole cose così e il motivo di questa scelta in passato era cercare un meccanismo tecnologico di oro ce n'è poco che desse garanzia credibilità ai terzi che non ci sarebbero state interferenze quando si studia un po' l'economia si capisce anche che non è un meccanismo ideale perché quello che vi ha fatto vedere Tommaso questa grande iniezione di base monetaria che non si è trasformata in moneta si capisce bene pensando al fatto che in certi momenti la domanda di moneta aumenta noi economisti diciamo ci sono degli shock per esempio a seguito di una crisi finanziaria tutti gli operatori bancari vogliono avere più moneta se ci fosse stato l'oro tutti volevano avere l'oro ma l'oro è solo quello lì il prezzo dell'oro sarebbe schizzato in alto quindi ce ne sarebbe stato troppo poco un grande vantaggio della moneta discrezionale quella che stampiamo o che semplicemente diciamo si crea elettronicamente è che può essere regolata quindi c'è un beneficio però il rischio di quando si passa un sistema con questo beneficio è che se ne abusi perché i policymaker non sono angeli e quindi c'è il rischio che cadano in tentazione è interessante guardando una grandissima serie storica questo è il Regno Unito la linea questa linea zigzag è il livello dei prezzi non è l'inflazione quindi l'inflazione è la pendenza di quella linea una cosa che si vede è che non c'è stata inflazione dal 1200 al 1500 la linea è piatta quindi sostanzialmente i prezzi non si erano mossi molto poi succede qualcosa nel 500 c'è una grande inflazione in tutta Europa cosa è successo? oro dall'America l'oro avevo detto prima l'oro ci sembra una buona idea perché ce n'è poco però mannaggia hanno scoperto un continente nuovo pieno d'oro arriva un sacco di oro è un'espansione monetaria è difficile farne tante così però è successo una volta ed è un esempio storico importante poi di nuovo poco se potessimo zoomare vedremmo che durante le guerre ci sono dei boom dei blip di inflazione perché durante le guerre si sospende la convertibilità e il sovrano proprio per poter creare moneta poi qua negli anni 70 nel 71 succede qualcosa di mai visto prima cioè inizia a crescere si passa a un regime di fiat money si dice basta oro sganciamoci dall'oro usciamo da Bretton Woods e quello è l'epoca moderna la stessa cosa la si vede negli Stati Uniti il periodo qua è un po' più corto ma ci sono un po' di blip di inflazione durante le guerre civili prima poi prima guerra mondiale seconda guerra mondiale poi si arriva al 71 si passa alla moneta fiat questo trend cosa fa venire in mente beh che se si può stampare insomma un pochino si stampa un po' più di quanto si faceva con l'oro e quindi in media il livello dei prezzi cresce è successo anche in Italia questa è l'inflazione non il livello dei prezzi quindi già la pendenza sopra c'è l'800 ci sono state due grandi inflazioni vabbè sopra dall'860 al 59 le grandi inflazioni sono state durante la guerra appunto convertibilità sospesa grandi espansioni monetarie e poi nell'epoca moderna nel 71 anche in Italia si stampa moneta e in questo periodo per esempio nell'81 periodo del divorzio quello che succedeva in Italia era che c'era un automatismo lo saprete bene per cui il deficit non coperto cioè le emissioni di buoni di titoli di stato che non venivano acquistati in asta dovevano essere acquistate residualmente dalla banca d'Italia questo meccanismo crea moneta ed è per questo che in Italia mentre in altri paesi europei l'inflazione era scesa più velocemente in Italia rimaneva questa elevata inflazione e per cercare di porre un freno a questa discrezionalità che sembrava non avere un freno tra l'altro queste figure sarebbe bello parlarne con chi pensa che Stampari risolva tutti i problemi Stampari porta a questo porta agli anni 80 in Italia e per risolverle allora si pensò in tanti paesi in Italia dopo di vincolare la discrezionalità dei banchieri centrali basta o dei banchieri centrali in quanto agenti dei tesori in fondo la banca d'Italia comprava titoli perché il tesoro gli diceva di farle ovviamente quindi nacque questa idea che ci sono tante metafore ho detto insomma chiaramente oggi non presento un modello ma alla fine uno dei paper sull'argomento che ha avuto più successo sembra fosse Giavazzi e Pagano parlavano proprio di un altro mito non ho resistito siccome ha parlato di Platone io parlerò di Omero di Ulisse e delle sirene cioè di questa idea che avere una banca centrale indipendente era una buona idea esattamente come era una buona idea quella di Ulisse che chiede ai suoi marinai di legarlo all'albero quando passano vicino alle sirene perché? Perché c'è questo problema quando hai la discrezionalità monetaria abbiamo detto è bene è buono in un sacco di situazioni è buono pensate se la banca centrale europea non avesse avuto o la Fed la possibilità di darla questa liquidità alle banche che erano nel panico e la volevano nessuno sa cosa sarebbe successo ma verosimilmente credo molti di noi pensano che sarebbe stato un problema perché con poca liquidità e tanta domanda i tassi di interesse sarebbero saliti molto ad aggravare una situazione economica difficile invece avere la flessibilità di questo strumento in quel momento è stata una cosa utile ma il rischio è che però poi si usi per finanziare progetti strani ora non so cosa mi può venire in mente che progetti potessi finanziare stretto di Messina quota 100 un aumento delle pensioni cose così quindi anticipando oggi come Ulisse prima Ulisse aveva letto era uno studioso ce lo dice anche Dante fatti non foste Ulisse aveva letto sapeva dove stava andando quindi dice ai suoi marinai legatemi perché lui proprio gli piaceva sentirle queste sirene però voleva anche salvare le penne quindi in fondo abdica a un po' della sua sovranità ma in modo intelligente nel suo interesse e allo stesso modo c'è questa metafora del perché uno stato intelligente come Ulisse possa avere un interesse ad abdicare a parte della sua sovranità lo fa perché sa di non voler incombere in quella tentazione così che sa che potrebbe capitare e quindi cerca un po' di prendere un po' dei benefici della discrezionalità e un po' però anche di vincolarsi contro i rischi è molto interessante guardare i dati perché una cosa che si vede nei dati cioè una delle domande classiche monetarie è la crescita monetaria genera inflazione se voi vi ritrovate a discutere con qualche sostenitore di questi sovranisti uno degli esempi che vi faranno è non è vero ci sono un sacco di espansioni monetarie che non hanno creato nessuna inflazione hanno ragione e noi capiamo perché quel modellino stupido di più periodi in realtà quello che c'è da dire è che quando queste crescite monetarie sono disperate e sostenute pensiamo alla Turchia al Venezuela all'Italia degli anni 80 si vedono figure come quella di sinistra la caratteristica dei pallini di sinistra sono paesi con alti tassi di inflazione sostenuti nel tempo alti vuol dire a due cifre alti tassi di crescita monetaria scusate quindi sopra il 20% o in realtà il 10 abbiamo praticamente i dati sulla retta a 45 gradi quindi se prendete un paese sfido chiunque a trovare un paese che abbia avuto media di crescita monetaria a due cifre per diciamo 4-5 anni che non abbia un'inflazione che abbia quello stesso numero questo perché? beh perché questo è come uno che dice sapete ogni tanto quando facciamo le diete diciamo vabbè però qualche sgarrettino è consentito però qualcuno si inizia a fare la carbonara stasera la carbonara domani sera la matriciana dopo domani beh dice allora no questo se fai 20% 20% 20% hai perso la credibilità i mercati dicono vabbè questo va in iperinflazione e lascio a voi il giudizio su cosa i mercati penserebbero di quello che farebbe l'Italia uscita dall'euro cioè se diventerebbe una novella da Nimarca che può svalutare tutto quello che vuole ma non lo fa dal 1978 se non mi sbaglio non lo fa non l'ha fatto nemmeno nella grande crisi non l'ha fatto perché non vogliono oppure se invece o una Svizzera oppure se diventerebbe non so qualcosa come la Turchia però quello che è interessante invece è i regimi di bassa inflazione tornando al discorso le espansioni monetarie a causa dell'inflazione se guardiamo un gruppo di paesi con bassa inflazione quindi qua c'è una crescita monetaria sotto l'8% l'ho fatto in fretta non più o meno c'è di tutto perché? perché ci sono mille motivi per avere un'espansione monetaria una contrazione monetaria in un regime normale in un regime che garantisce che in media io mi posso fidare e non trasformerai l'unità di conto che ho in tasca o in banca in carta straccia quindi in regimi normali in cui c'è credibilità io direi shock monetari temporanei non danno nessuna conseguenza infatti quando io ero giovane e studiavo le prime cose monetariste mi ricordo la Germania un paese monetarista andavi a vedere la Germania la Germania faceva quello che voleva crescita monetaria 8% un anno c'era una regola all'epoca quella Friedman K% la regola del libro diceva se vuoi avere bassa inflazione diciamo 2% devi avere crescita monetaria il 2% andavi a vedere la Germania 8% meno 2% 7% 5% perché perché è come uno che fa una dieta di cui però ti fidi dice beh stasera mi mangio la carbonara non ti preoccupare lo sai che dopo ha giusto ed evidentemente era così i mercati credevano a questo e tutto funzionava è un po' quello che sta succedendo anche in Europa sembra che adesso abbiamo il problema contrario è difficile creare inflazione i mercati credono a questo annuncio whatever it takes l'inflazione è bassa e diventa difficile spingerla oltre comunque fuori dai regimi di moneta merce quindi l'oro l'argento quindi nei regimi moderni in cui la moneta è fiduciaria diventa importante la domanda di ok quindi quali sono le istituzioni appropriate per limitare i rischi della discrezionalità e i rischi della discrezionalità vengono quasi sempre dalla politica perché un politico ha sempre la tentazione a un mandato a termine ha una sensazione a spendere a non diciamo a lasciare il conto a qualcun altro e pagarlo con la moneta è un modo molto subdolo di far pagare il conto a qualcun altro non si vede bene non è come legiferare nuove imposte l'inflazione diceva Friedman è una delle tasse più subdole perché è un po' invisibile non si vede quindi negli anni forse 90 si è diffusa questa idea che una buona soluzione a questo problema poteva essere l'istituto di una banca centrale indipendente un istituto che proprio di questi tempi viene invece rimesso in discussione da entrambe le sponde dell'Atlantico avete visto diciamo Trump non è che è timido nel dire alla Fed cosa deve fare la Fed sembra un pochino averlo ascoltato adesso è in una situazione di impasse perché che farà lo ascolterà di nuovo c'è stata una seconda richiesta o no se lo facesse chiaramente ci rimetterebbe un po' della idea che i mercati si sono fatti di quanto è indipendente dal potere politico voglio chiudere con due fatti queste sono cose un po' ormai datate ma negli anni 90 quando iniziò questo dibattito sulla banca centrale indipendente alcuni studiosi alcuni peraltro italiani sono stati pionieri in questo campo da Alberto Alesina Guido Tabellini Donato Masciandaro iniziarono a dire ok ma possiamo misurare l'indipendenza politica della banca centrale l'indipendenza della banca centrale pensarono a due misure la prima una misura di indipendenza politica cosa vuol dire indipendenza politica cioè loro la definivano come per esempio una banca centrale prende un punto se il governatore di quella banca non è nominato dal governo cioè separato dal potere politico se il governatore è nominato per più di cinque anni se nessuno del board è nominato dal governo se vi vengono in mente delle cose che avete letto sui giornali siete sulla strada giusta cioè ci sono tante stelline che danno un'idea di quanto è facile per chi sta al governo controllare quello che succede in banca centrale la banca centrale è un forziere pieno di caramelle per il governo perché è il posto dove si va a farsi pagare il conto quindi non è difficile capire il perché di queste scelte e il perché quando tutte le scelte hanno la stellina significa che c'è un po' più di distanza che diventa un po' più difficile per il governo dire alla banca centrale cosa deve fare chiaramente sono misure non è come dire quanto pesa questo elefante sono misure un po' qualitative però la direzione in cui vogliono andare ha senso una seconda dimensione dell'indipendenza è quella economica cioè se il governo ha accesso diretto a canali di credito per esempio in Italia con la banca d'Italia avevano un conto corrente di tesoreria così si chiamava tale per cui il 14% della spesa programmata a bilancio automaticamente doveva essere finanziato e così via cosa fecero questi ricercatori sommarono queste stellette tante stellette sembravano dire è un'istituzione più indipendente poche stellette meno indipendente e fecero dei grafici ora nessuno di noi se siete del settore sapete che queste vanno prese con le molle sono correlazioni è un piccolissimo campione però l'idea era che da questi grafici quello che sembrava emergere ed è stato poi approfondito in tantissimi studi successivi è che più una banca è indipendente cioè più segna stellette in quelle misure più bassa è l'inflazione con l'idea che queste banche avessero più la capacità una capacità maggiore rispetto al governo che rappresentavano cioè al paese che rappresentavano perché comunque apro e chiudo una piccola parentesi indipendente non vuol dire che le banche fanno quello che vogliono le banche sono ovviamente responsabili di fronte al Parlamento e periodicamente riportano sia in Italia che a livello europeo ai parlamentari quello che fanno ma l'idea è che il loro operato è un operato che mira a lungo periodo non all'immediato al ciclo elettorale e quindi queste evidenze diciamo portarono un po' di conforto all'idea che forse queste istituzioni potevano essere una buona idea sulla via dell'indipendenza della banca centrale ci sono mille problemi diciamo tecnici nel guardare una cosa così di causazione reversa inversa di campioni piccoli selezionati però l'idea è che ve la volevo lasciare il finale è che se invece uno pensasse a ok disfiamo questa istituzione questo istituto della banca indipendente immaginiamoci un governo come abbiamo visto tante volte in America del Sud ma anche in Europa del Sud che è disperato per avere un qualche strumento per pagare i conti e controlla la banca centrale io scommetto che andiamo a finire in una situazione di questo tipo ci siamo stati in passati ci sono tanti paesi oggi e è possibilissimo ritornarci chi dice che non si può creare inflazione stampando moneta non sa di cosa parla basta assumere un governatore dello Zimbabwe argentino turco non è che ci voglia un capitale umano mostruoso per far andare delle macchine a presse guardate quelle banconote a sinistra come avrete capito sono in realtà questo grafico è vecchio è una foto mi sa di tre anni fa la quantità di bolivar che servivano in Venezuela per comprare un rotolo di cartigenica ringrazio tantissimo anche il professor Lippi sono un po' di imbarazzo perché quando voi pensate usando il paragone di Monacelli al tempo dedicato agli speaker come a un certo numero di mele che vengono date a noi eravamo in tre ci hanno dato 60 mele Monacelli se ne mangiate 30 Lippi 28 a me ne rimangono due questa è la prima ragione per cui sono imbarazzato la seconda professore Faveros facciamo un po' di QI di minuti mi dai più di mele grazie era quello che chiedevo la seconda è che c'è una differenza notevole tra me e i miei due colleghi che mi hanno preceduto che loro sono dei fini teorici e io sono un empirico e quindi vedrete una differenza nel tono dei nostri interventi io sarò molto più legato ai dati rispetto a quanto loro sono stati legati ai concetti ciononostante credo che ci siamo ben concertati e dai loro due interventi esce chiaramente un'idea che la monetizzazione non è la soluzione al problema del debito pubblico io vorrei spendere qualche parola su cosa si può fare quando non si può monetizzare e arriverò all'austerità perché è inevitabile però prima di arrivare all'austerità volevo discutere con voi di due ragioni per cui è importante parlare di austerità come uno strumento di soluzione del problema del debito pubblico e quindi avrò tre argomenti centrali in questa mia discussione il primo è in generale perché l'austerità il secondo è cercare di attaccare un altro mito e l'altro mito è che viene spinto spesso dai nostri politici è che da una parte ci sta l'economia reale e il popolo dall'altra ci sta la finanza allo spread quello che vorrei discutere con voi ancorché brevemente l'idea che in realtà non c'è affatto questa separazione che le due cose sono molto correlate e che una delle ragioni per cui è pensabile di fare austerità è proprio la forte relazione che c'è tra le variabili finanziarie e quelle reali tra lo spread e il tasso di disoccupazione allora primo punto e qui secondo me è importante perché l'austerità viene bersagliata ma in realtà io credo che tra gli economisti ci sono molte scuole di pensiero ma tutti siamo d'accordo su una cosa che la politica fiscale ottimale è anticiclica ora se i governi facessero politiche fiscali anticicliche cioè facendo espansione fiscale quando c'è recessione e poi riaggiustando il bilancio pubblico quando l'economia è in crescita e quindi una politica fiscale che realizza il cosiddetto smoothing del consumo l'evitare diciamo fluttuazioni intratemporali del consumo l'austerità non sarebbe mai necessaria perché c'è un alternarsi contro ciclico di deficit e surplus che non genera debito quello che succede nei dati e qui vi do la mia visione di uomo dei dati che più di uomo della teoria è che se voi andate a vedere la storia di tutti i paesi dell'area OECD in alcuni il problema è più serio che in altri prendiamo il caso dell'Italia anche il problema è serissimo i governi hanno sempre avuto facilità a fare politiche fiscali espansive ma non hanno mai implementato le politiche fiscali di correzione quando c'è l'opportunità per farlo questo cosa fa? genera debito ora non esiste e io qui non ho timore di essere smentito una teoria economica che giustifica un debito pubblico alto e crescente perché in realtà voi potete pensare che un debito pubblico alto e crescente potrebbe avere dei fondamenti quando per esempio c'è scarsità di offerta di un cosiddetto safe asset ma non è il nostro non è il caso oppure quando c'è una dinamica intergenerazionale molto marcata per cui voi vi aspettate che ci sia un ringiovanimento della popolazione allora in questo caso è ottimale fare debito perché la popolazione più vecchia oggi passa su una popolazione che sarà più giovane in futuro il costo di stabilizzare il debito però questo è esattamente il contrario di quello che di nuovo guardando i dati succede c'è un invecchiamento atteso della popolazione e se è difficile trovare una ragione economica per l'alto debito è facilissimo trovarlo in ambito di politica economica in cui un alto debito si giustifica immediatamente con una classe politica irresponsabile irresponsabile nel senso che tiene conto solo del benessere di quelli che votano adesso e non tiene conto del benessere di quelli che voteranno in futuro ma che non sono ancora nati io quando quando parlo con la professoressa Fornero di cui io sono un grande stimatore perché credo che aveva fatto una riforma importantissima per il paese le ricordo sempre che lei ha milioni e milioni di sostenitori lei stessa quando le dico questa cosa mi guarda con un punto di domanda e la risposta è certo sono milioni e milioni il problema è che non sono ancora nati e questa mancanza di poter manifestare la loro opinione e anche di poter agire sul mercato da parte di quelli di cui non sono ancora nati dà la possibilità in un contesto di politica economica di giustificare una presenza di un alto debito crescente che non ha giustificazioni economiche ora abbiamo alto debito e non a caso ho parlato la professoressa Fornero perché le tappe della grande salita del debito italiano sono segnate da riforme pensionistiche il debito italiano il problema del debito italiano parte con la riforma Brodolini del 1969 e gli unici momenti di stabilizzazione del debito si hanno a seguire delle riforme Amato e Dini negli anni 90 ovviamente la dinamica del debito è più complessa però queste riforme danno un'idea dell'attitudine nei confronti della classe politica di tenere conto delle generazioni future ok questo è il primo punto di cui volevo discutere con voi è una cosa credo abbastanza importante perché se ci fossero politiche ottimali l'austerità non sarebbe necessaria la seconda cosa è lasciatemi passare tre minuti tre mele sulla sull'economia reale e questo è l'andamento del tasso di disoccupazione in Italia negli ultimi 15 anni e oltre a riportarvi in vero del tasso di disoccupazione vi ho riportato in rosso la sua media perché ho fatto questo? perché volevo illustrare un'evidenza semplica che esce dai dati che è la seguente la disoccupazione non fluttua intorno a una media a un trend e se voi vedete negli ultimi 15 anni vi calcolate la media uno statistico direbbe che la media di questa variabile ha poco senso ha poco senso proprio perché la variabile la attraversa una volta sola il che vuol dire che non c'è tendenza del tasso di disoccupazione a tornare verso un livello naturale costante quindi questo è il benessere degli italiani e il tasso di disoccupazione in Italia ha quello che gli statisti direbbero un trend stocastico non torna la media questa presenza di trend stocastico può essere pensata in questo in questi termini in ogni in ogni momento nel tempo c'è un tasso di disoccupazione di equilibrio che cos'è che seleziona il tasso di disoccupazione di equilibrio e io qui volevo darvi solo un'intuizione senza sviluppare ovviamente il 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 modello che sta dietro questa cosa e l'idea è che il tasso di disoccupazione di equilibrio viene selezionato dall'andamento delle variabili finanziarie oltre la linea verde adesso ne ho messa una rossa e la linea rossa è lo spread tra i BTP e i Bund e qui vedete che esiste una chiara correlazione nei dati che vi dice che non è che da una parte esiste la finanza dall'altra esiste il popolo italiano esiste una correlazione tra le fluttuazioni dei prezzi attività finanziarie e la variabile reale su cui ci stiamo concentrando che è il tasso di disoccupazione vi do due storie per cui esiste questa correlazione la prima è che quando i mercati finanziari si muovono e sono soggetti a shock e quando c'è un crollo dei prezzi delle attività finanziarie che sono importanti nel bilancio delle famiglie la ricchezza delle famiglie si riduce alla ricchezza alla riduzione della ricchezza delle famiglie si associano alla riduzione della spesa e quindi viene a mancare la domanda e quindi le aziende licenziano i lavoratori e riducono la loro produzione con la riduzione drastica della produzione si riducono i profitti delle aziende questo è un canale che passa tra fluttuazioni dei prezzi attività finanziarie ricchezza delle famiglie domanda aggregata e disoccupazione esiste un altro canale ugualmente importante che passa attraverso gli investimenti e qui questo canale è reso ancora più importante quando le attività di investimento delle aziende dipendono dai prestiti bancari e quando le banche hanno tra le loro attività titoli di Stato si creano le condizioni per il cosiddetto loop diabolico che lega un crollo dei prezzi di attività finanziarie a una contrazione dell'economia l'idea qui è piuttosto semplice avete un attacco speculativo sui titoli di Stato italiano lo spread sale quindi il prezzo di titoli scende nei bilanci delle banche avete una perdita di valore delle attività a conseguenza perdita di valore delle attività bancarie devono ridursi i prestiti si riducono i prestiti dell'economia viene ancor più colpita in recessione e quindi l'ultimo bullet point vi chiude il cerchio tra l'andamento delle variabili finanziarie lo spread e la disoccupazione la crisi di confidenza dei mercati finanziari che comporta un coro dei prezzi produce una profezia che si autoavvera e quindi non è affatto vero che c'è da una parte lo spread e dall'altra il benessere degli italiani il benessere degli italiani proprio perché noi siamo in un paese ad alto debito dipende dallo spread prima di parlarvi del terzo punto volevo chiudere questa questa sessione su spread di disoccupazione con un'anotazione che è la seguente l'andamento dei mercati finanziari non sempre riflette i fondamentali quindi sui mercati finanziari voi potete avere due tipi di shock che determinano diciamo i prezzi i cosiddetti shock fondamentali che sono quelli legati ai fondamentali su cui si determinano i prezzi per esempio nel caso del debito pubblico italiano uno shock ai fondamentali è un governo che fa un piano triennale in cui annuncia o un rientro o un'espansione del debito ma avete anche shock non fondamentali shock non fondamentali sono legati al fatto che a volte i mercati reagiscono ad altre cose che non sono i fondamentali e si possono avere anche quelle cosiddette situazioni di bolle speculative per cui i prezzi si muovono indipendentemente dai fondamentali da questo punto di vista è perfettamente possibile che uno un movimento del prezzo di rischio di rischio italiano sia determinato da qualche dichiarazione improvvida ma queste dichiarazioni improvvide hanno effetto reale perché questo meccanismo che vi ho discusso può essere innescato tanto da uno shock fondamentale quanto da uno shock non fondamentale e quindi le parole contano molto credo che come introduzione ho chiarito con voi due cose in cui credo profondamente la prima è che in un mondo indiale l'austerità non sarebbe necessaria la seconda è che per capire l'andamento di variabili che influenzano direttamente il benessere della popolazione in un paese ad alto debito non si può partire da un'ipotesi di separazione tra i prezzi dell'attività finanziaria e l'andamento dell'economia reale e quindi quando il debito è alto occorre in qualche maniera intervenire quello che vorrei raccontare è il risultato di uno studio che va avanti ormai da una quindicina d'anni sul cercare di capire di nuovo mi prendo l'esempio l'esempio dalla medicina cioè l'idea è che l'austerità è una cura e che è importante studiare i dati per capire qual è la maniera di somministrare l'austerità che sia meno dannosa per il paziente quando ho discusso questo esempio per la prima volta ho avuto l'idea di pensare all'austerità come chemioterapia e quindi l'idea di capire qual è la chemioterapia migliore nel senso che è quella che minimizza gli effetti collaterali un amico economista mi ha detto ma no non parla di chemioterapia parla di dieta che è più semplice e tra l'altro la dieta è stato il concetto che ha utilizzato anche Francesco prima quindi l'idea è di capire qual è la maniera migliore di fare questa dieta che è necessaria e nella metafora di Francesco c'era un punto importante che è quello che è importante nella dieta è avere un profilo intertemporale attorno a cui uno può fluttuare ma l'importante è mantenere il profilo intertemporale che dia credibilità al piano e volevo raccontarvi brevemente appunto mantenendo i miei i miei vincoli un lavoro che si è concretizzato in una serie di articoli accademici e più recentemente in un libro con Alberto Alesina e Francesco Giavazzi che si intitola Punto Austerità e in questo libro abbiamo cercato di fare il punto su qual è la maniera migliore di somministrare la cura e nel libro abbiamo analizzato 16 paesi OECD abbiamo analizzato i dati che vanno dal 78 al 2014 per un totale di 3500 misure di consolidamento fiscale una delle cose che abbiamo fatto che secondo me sono più meritevoli non è tanto scrivere il libro ma quanto rendere disponibili questi dati sono disponibili su un website quindi uno può andare a vedere le nostre misure e quando uno vuole studiare l'effetto dell'austerità c'è un problema che deve affrontare che quando si vuole capire qual è l'effetto dell'austerità sul ciclo bisogna escludere quelle misure che sono determinate dal ciclo cioè occorre considerare misure cosiddette esogene quindi abbiamo cercato di identificare misure esogene andando a studiare nella documentazione ufficiale le motivazioni che stavano dietro dei vari tipi di aggiustamento ed escludendo quelli che erano diciamo giustificati da motivi ciclici avendo e l'altra caratteristica che è la nostra analisi dell'austerità è che la politica fiscale fitta perfettamente il caso multiperiodale che ha discusso Francesco nel suo modello cioè la politica fiscale avviene per piani che sono annunciati una volta all'anno pensate al caso del DEF però nell'anno d'annuncio si ha un orizzonte che è pluriennale quindi si tratta di plani pluriennali questo crea diverse componenti della politica fiscale che sono quelle implementate immediatamente quelle che vengono annunciate oggi per il futuro e quelle che vengono implementate oggi essendo state annunciate nel passato da qualcun altro andando ad analizzare questi piani esce un'evidenza interessante con cui vi lascio che è la seguente cioè la maniera in cui si fa austerità fa la differenza e qui vi do il grafico che sta alla base del libro che è basato sul classificare i piani di austerità in due gruppi cioè quelli basati su aumenti delle tasse e quelli basati su riduzione della spesa e in questo grafico si analizza la risposta del PIL a questi due tipi di piani fiscali quello blu è quello basato su un taglio della spesa quello rosso è quello basato su un aumento delle tasse e avete un piano fiscale che ha una dimensione di un 1% del PIL e quindi quando leggete la risposta vedete che un moltiplicatore maggiore di 1 è implicato dal fatto che la linea rossa vada sotto il meno 1 quello che esce dai dati è che l'aggiustamento fiscale fatto con i tagli di spesa è una medicina per stabilizzare il debito che ha effetti collaterali in termini di crescita minori che non un piano equivalente implementato con un aumento delle tasse notate che questo va contro quello che è scritto nella teoria generale e in tutti i libri di testo che sono basati sul modello Kenisano ISLM dove il moltiplicatore dell'imposto è più basso di quello della spesa pubblica questo per quanto riguarda l'effetto sulla crescita l'ultimo grafico che vi faccio vedere è l'effetto sulla dinamica del debito PIL qui vi do un messaggio generale di nuovo quando si guarda l'effetto sulla dinamica del debito PIL c'è un problema che il modello diventa non lineare quindi è la disposta dipende dalle condizioni iniziali quindi anziché un grafico ne avete due uno per un caso di debito basso con bassi tassi di interesse l'altro per un caso di debito alto con bassi tassi di interesse quello che vedete comunque è che l'aggiustamento fiscale basato sulle tasse non genera stabilizzazione mentre quello basato sulla spesa genera stabilizzazione e quindi la conclusione con cui volevo lasciarvi è che è importante purtroppo fare austerità perché è la maniera di risolvere un problema che è stato creato da classi politiche irresponsabili quando si fa austerità contano due cose primo è la responsabilità quindi fare degli annunci e poi mantenere questi annunci e secondo il tipo di austerità che viene implementata vi lascio facendo due casi recenti di politiche fiscali che secondo me sono abbastanza interessanti degli ultimi anni uno è il caso del Portogallo l'altro è il caso dell'Italia nel caso dell'Italia se ci pensate abbiamo avuto un esempio in questi ultimi due anni di una politica fiscale annunciata come espansiva che ha avuto effetti restrittivi sull'economia nel caso del Portogallo invece abbiamo avuto il caso di una politica fiscale che è stata moderatamente restrittiva ma che è accompagnata da un tasso di crescita dell'economia che si colloca stabilmente al 2,5% vi faccio presente due cose a questo proposito che sono consistenti credo con tutto quello che vi ho raccontato in questi 20 minuti la prima è che dopo che il Portogallo è andato a chiedere aiuto al fondo salva stati tutte le classi politiche che si sono succedute al controllo della spesa pubblica e della politica fiscale hanno avuto dichiarazioni consistenti sull'importanza di controllare il debito e di far tornare l'economia in un cammino di stabilizzazione la conseguenza di questo fatto è stato che il Portogallo cresce al 2,5% e ha uno spread rispetto al Bund che è più vicino ai 50 punti base che non ai 100 nel caso italiano abbiamo avuto dichiarazioni di tutti i tipi ma nessuna dell'importanza della stabilizzazione ci sono stati degli annunci di politica fiscale che sono chiaramente espansivi per quanto riguarda l'effetto sul deficit il risultato sulla crescita lo sapete la crescita prevista varia tra qualche numero negativo e zero il risultato sullo spread è che abbiamo uno spread che è 4 volte quello del Portogallo sulla Germania grazie ringraziamo anche il professor Favero adesso c'è tempo per le domande c'è un microfono che gira buonasera grazie degli interventi io volevo fare due domande allora la prima è quale di queste tre alternative credete che sia più verosimile se all'università di Chieti Pescara e corsi serali della cattolica non hanno mai sentito parlare di Venezuela Argentina Turchia Compagnia Bella e del fatto che il debito netto del Giappone sia 120% di cui metà detenuto dalla Bank of Japan e il restante 60 90 e passa in mano agli investitori domestici se bagnai borghi fanno fatica a capire l'ovvio oppure se diciamo l'incentivo dello stipendio sia più forte della verità quindi questa è la prima e la seconda è qual è la vostra posizione su l'inserimento di un eventuale secondo mandato per la banca l'ICB sul primo punto che credo che chiaramente la risposta è malafede e quindi puro portorismo politico e vedere che c'è una strada un'autostrada davanti di argomenti e miti che fanno molto presa sulla popolazione e finché questi argomenti riescono a tradursi in consenso elettorale siamo di fronte alla più forte manifestazione di miopia politica che forse l'Italia ha visto nel dopoguerra anche se in realtà è il ripetersi di un ciclo l'Italia di fatto è in una trappola di populismo oramai da circa 25 anni insomma non dimentichiamoci che questo è il populismo 2.0 che assume molto i contorni del populismo economico ecco perché parlare dei miti dei miti della caverna di queste ombre questi argomenti del sovranismo monetario dell'uscita dall'euro del riconquistare la nostra capacità di risolvere autonomamente i nostri problemi fondamentalmente gestendo la nostra moneta si caratterizza molto come populismo economico ma questo populismo 2.0 viene dal populismo 1.0 dei governi degli ultimi due decenni e di fatto l'Italia è in una sorta di trappola cioè siccome è in un declino economico da parecchio tempo il declino economico porta alla crisi finanziaria il declino economico è stato causato dal populismo 1.0 quando arriva la crisi finanziaria arrivano i governi tecnici ma i governi tecnici chiamano il populismo 2.0 il populismo 2.0 porta ulteriore declino economico crisi finanziaria populismo 3.0 se vedete bene questa è la strada dell'argentina quindi non c'è una questione di non capire questi argomenti è semplicemente questione di vedere un'autostrada di consenso per cui parlare di queste non so quando Francesco ha esordito dicendo parlare e cercare di parlare di questi argomenti in modo tecnico di illustrare queste idee cioè speriamo che abbia un senso speriamo che che serva a dissipare quelle ombre dentro la caverna però le persone imprigionate dentro quella caverna che vedono la realtà solo attraverso quelle ombre purtroppo sembrano essere tante in questo paese in questo momento per cui è ovvio che l'opportunismo politico va a raccontare a quelle persone le ombre e chi cerca magari come stiamo cercando di fare qua di uscire da questa caverna di raccontare la realtà come è vero rischia magari rischia anche molto rischia anche molto e nel dibattito pubblico questo succede veramente quindi queste cose probabilmente le sanno o non le sanno ma è molto irrilevante che questo sia vero scusate scusate io credo io credo che i tempi siano maturi per la BCE per rivedere il proprio mandato ma quello che oramai è maturo e faranno è di rendere il mandato della BCE in termini di inflazione simmetrico intorno al 2% questo oramai in termini formali Draghi ha un po' di tempo che insiste sul dire che anche se l'obiettivo della BCE è quello di avere stabilità di prezzo inflazione al 2% ma al di sotto vicino ma al di sotto del 2% c'è questa insistenza sul dire ma il nostro è un obiettivo simmetrico questo vuol dire simmetrico vuol dire è 2% ma noi come banca centrale ecco il ruolo di influenzare le aspettative siamo pronti anche a tollerare facilmente tassi di inflazione che vadano al di sopra del 2% perché se siamo sufficientemente credibili le aspettative non andranno fuori controllo la gente si aspetterà che se anche l'inflazione sale al 2,5% tenderà a ritornare al 2% questo vuol dire essere simmetrici ma che la BCE introduca a breve un obiettivo anche in termini di disoccupazione come di fatto esiste anche nella Fed non credo che questo avvenga e io non credo che farebbe una grande differenza telegrafico su questo ultimo punto secondo me questa seconda domanda fa capire l'importanza di avere un po' di dimestichezza sono un professore quindi mi perdoni se il tema è un atteggiamento un po' paternalistico quando uno conosce un po' di una materia qualunque la prima cosa che sa fare è capire se una questione è importante o secondaria tipo se un fisico fa cadere un sasso da una torre dice vabbè l'attrito dimentichiamocelo perché è una cosa piccola rispetto al fenomeno che so guardano se fa cadere una piuma sa che è importante ecco ci sono delle domande come quella noi siamo un paese che ha dei problemi enormi una nave che sta affondando diretta a prua piena contro un mucchio di scogli stare a discutere se la BCE introduce il secondo mandato così sono oppure non so l'invasione degli immigrati che uno guarda le statistiche e non c'è sono questi i problemi gravi del paese e secondo me si ricongiungono alla prima domanda cioè che i signori Bagnai e Borghi non sono un problema di per sé c'è un'offerta infinita di persone così il problema è la domanda cioè il problema è il paese tutti questi elettori che vogliono sentirsi dire queste cose cercano gente come Bagnai e Borghi ne troveranno cioè non è che sono questi due ce ne saranno milioni non ci vuole niente per dire quello che dicono non devi nemmeno studiare questo è il problema è il problema di avere un problema grande una grave malattia e non essere assolutamente in grado di farla di agno e chi come noi ma non per particolare intelligenza ma per un po' di competenza fa una diagnosi come l'euro c'entra poco i problemi che ha questo paese da vent'anni sono problemi di produttività di struttura di assenza di meritocrazia di burocrazia di giustizia che non funziona di scuola che non funziona viene preso per un gufo un guastafeste quindi il problema è quello il primo problema del paese è identificare i nodi importanti e far sì che la gente li capisca altrimenti faccio io una domanda allora però ricevuto il messaggio sui nodi importanti del paese che abbiamo in questo paese vorrei capire da voi che opinioni avete esattamente su quella temporaneità di cui ha parlato il professor Modancelli cioè io lavoro sui mercati finanziari dall'87 mi occupo un pochettino di teoria perché sono appassionato ma sono totalmente un practitioner mi occupo di dati parecchio però vorrei capire da voi quanto operazioni tipo il QE portate avanti per così tanto in tempo introducono incentivi pessimi e isteresi in quei comportamenti in paesi come l'Italia che hanno badly designed institutions quanto introducono incentivi perversi dico è ovvio a un practitioner come me che il QE va bene nel momento in cui l'illiquidità diventa insolvenza altra cosa è farlo diventare borderline con fiscal policy allora chiedo a voi non è proprio quello che impedisce ogni tipo di cambiamento in un paese come l'Italia o la durata cioè non quello in sé ma la durata questa qui è sostanzialmente la posizione tedesca no che dice che che dice che la no no ma questo tedesco non è un giudizio di valore nel senso che i paesi del nord dicono che l'Italia va disciplinata che la politica monetaria espansiva è una maniera di ridurre la disciplina sugli italiani e che tutte le volte che gli italiani non vengono disciplinati sforano e quindi l'argomentazione è quella di dire c'è un rischio forte nell'esagerare con la politica monetaria espansiva perché si impedisce alla disciplina di mercato di esercitare il suo il suo il suo effetto nel caso italiano se ci pensate voi guardate l'andamento dello spread negli ultimi 20 giorni e qualcuno si chiede cosa sta succedendo perché in realtà lo spread è su un cammino che è diventato abbastanza discendente nonostante tutto quello che succede la ragione è che c'è così tanta liquidità c'è stata una riaffermazione di una possibile nuova ondata di acquisti che le condizioni internazionali sono tali per cui il segnale dei fondamentali locali sbagliati viene totalmente assoluto orbito ora qui ci sono diversi problemi il primo punto è che sicuramente l'Europa aveva bisogno di un QI e la motivazione del QI risiede in due cose primo che l'inflazione è chiaramente sotto l'obiettivo e secondo che la vera ragione il QI più forte è avvenuto con tre parole non con l'acquisto di tanti titoli quelle tre parole furono dette perché c'era un pericolo che si era manifestato che era il redenomination risk cioè il fatto che si innescasse una probabilità di rottura dell'euro e di svalutazione delle valute debole che immediatamente aumenta gli spread tra l'altro il redenomination risk che si può anche misurare è ripartito che era stato praticamente azzerato dalle dichiarazioni di Draghi e dalle successive politiche monetarie implementate è ripartito quando noi abbiamo avuto il cambiamento del governo e si può misurare che circa 100 punti base dello spread attuale dipendono proprio da quello per cui esistono delle ragioni tedesche che io posso capire e che sono ancora più reali se voi pensate alla storia del debito pubblico italiano nel senso che è proprio vero che in Italia l'idea di promuovere l'economia congiunturale a costo delle generazioni future è stata una politica economica che ha radici molto lontane parte dagli anni 70 e che ha portato all'accumulazione di questo debito i politici attuali hanno ragione nel dire non siamo noi che abbiamo creato il debito perché e non è certo Monti che ha creato il debito è venuto da molto prima però questa idea di spostare sulle generazioni future il costo del benessere generazione attuale ha accompagnato il nostro paese per cui io capisco il problema il difficile trade off in cui sta il governatore dell'ICB che ha l'area che ha bisogno di politiche espansive perché siamo con un'inflazione sotto al target e con una contrazione queste politiche espansive monetarie possono creare un alibi per le autorità fiscali per non comportarsi bene e la soluzione è che bisogna cambiare l'architettura fiscale in Europa e quindi questo è un passo la maggiore integrazione europea richiede non può basarsi solo su avere una politica monetaria unica a non coordinare gli altri tipi di politica forse se voi pensate per tornare a quello a cui accennava Gianluca invece io sono abbastanza d'accordo credo che l'uso sistematico di politiche cosiddette non convenzionali come il QI che le trasforma di fatto in politiche convenzionali abbia probabilmente più costi che benefici e abbia costi in termini di misallocazione delle risorse sui mercati finanziari di base il QI è qualcosa che dovrebbe essere del tutto neutrale perché di fatto cosa vuol dire quando i tassi di interesse sono da zero vuol dire scambiare un'unità di moneta con un'unità di titolo governativo e che quindi diventa a tassi di interesse zero come il mondo in cui viviamo da un po' di anni di fatto moneta e bond moneta e titoli sono la stessa cosa per cui sul svuoppare come si dice cambiare queste due cose sul bilancio della banca centrale dovrebbe essere appunto come dire cambiare un biglietto da 100 euro in 100 unità di unità un euro quindi in linea di principio è un grosso dilemma capire anche per chi studia queste cose perché il QI dovrebbe essere efficace e da che punto di vista che il QI sia particolarmente efficace a stimolare l'economia e che questo lo possa essere sistematicamente nel medio lungo periodo io ho tantissimi dubbi e credo che nel medio lungo periodo sia solo distorsivo Tommaso lo sape che ci conosciamo da un po' ma noi facciamo diciamo le 100 persone che siamo tra Milano e Madrid facciamo decine di migliaia di visite alle società quindi siamo micro fondati per forza nel senso non abbiamo altro e in questo momento scusate se vado un po' sul tecnico ma tu hai un sacco di capacità produttiva che lavora perché è prigioniera del collateral cioè lavora alla Stuart Myers per ripagare le banche e basta difficile avere prezzi con quella roba lì in giro cioè difficile avere dinamica dei prezzi se tu hai un cementiero in mano a banca intesa che con 5 milioni di tonnellate su installata capacità produttiva 50 vendite in Italia 18 lavora per pagare indietro banca intesa e basta la dinamica dei prezzi non la vedi più non la vedi mai finché non spazi via sta roba qua eh sì parlavo di quello infatti quando io dico quando io dico queste cose dico no vuoi far fallire no sì sì certo no no ma io infatti la mia domanda originale scusate magari ho straforato era sulla temporaneità cioè nessuno nega che in un certo momento quando l'illiquidità sui mercati finanziari diventa insolvenza ok e lì siamo al mark to model perché non puoi marcare i prezzi perché non ci sono più i prezzi per svariate ragioni che il professor Favaro ha ben spiegato ci possono essere dei momenti di shock per qualsiasi ragione in quel momento devi entrare a fare delle operazioni diciamo di refi degli operatori del mercato quello che dico io è ok sette anni sette anni cioè l'america ne esce se ci pensi Tomato l'america ne esce ricapitalizzando le banche poi si fa anche il QI dall'altro lato se il QI è uno strumento per rialzare l'inflazione invece che rialzare l'inflazione sia un impegno per la BCE è un obiettivo supponiamo che sia questo quello che vogliamo fare di fatto l'unica speranza con cui il QI possa rialzare l'inflazione è se è permanente ecco torniamo al ruolo delle aspettative vedete è una sorta di catch 22 cioè di dilemma per cui se vogliamo ottenere l'obiettivo del QI di rialzare l'inflazione supponendo che rialzare l'inflazione sia una buona idea o le aspettative sono che questa espansione monetaria tra virgolette è permanente o non ci si riesce infatti il Giappone non riesce a rialzare l'inflazione da tantissimo tempo perché non ha mai fatto la banca centrale giapponese non ha mai preso un impegno preciso sul fatto che le proprie politiche di QI sarebbero state permanenti ma se le politiche di QI sono permanenti possono generare problemi di misallocazione delle risorse spaventosi quindi questi aspetti sono molto interessanti ma non così ovvi forse c'erano altre domande sì in realtà non era una domanda in realtà un ringraziamento è una richiesta il ringraziamento è per quanto ci avete illustrato in maniera così chiara in maniera così accessibile tanto che anche un non tecnico come me è riuscito a verificare la credibilità di questi argomenti senza dover fare ricorso a chissà quale e la richiesta invece riguarda il fatto che la constatazione è che siamo un po' in una fase di battaglia culturale il paradigma il mito della caverna è stato usato da un'altra persona per dimostrare la stessa cosa in campo avverso quindi tutti questo dimostra che ci sono due parti che si stanno sì 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 no no era un altro era un altro era un altro no 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 Savona 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 e quindi questo cosa dimostra che ci sono due parti che si stanno contrapponendo ognuna delle quali però rivendica per sé un'aderenza alla realtà noi siamo credo qua tutti convinti di essere dalla parte giusta della realtà però il dibattito pubblico in questo momento non va in quella direzione quindi la richiesta è questa noi grazie anche a eventi come questo ci prendiamo anche la responsabilità di portare avanti questo messaggio e di diffondere il più possibile in modo che diventi denominatore comune di tante conversazioni a voi chiediamo di non smettere mai di dare argomenti voci contributi a questo tipo di battaglia mettiamola così io volevo riflettere un attimo in maniera un po' più approfondita sul legame che esiste tra moneta e inflazione no e volevo capire un attimo perché dare faccio premetto faccio la parte dell'avvocato del diavolo del diavolo sovranista cioè perché dobbiamo dare per scontato che nel momento in cui entra nel sistema tanta moneta la reazione debba essere quella di crescita del livello dei prezzi faccio proprio l'esempio stupido lo stato stampa un sacco di moneta dice compro un sacco di nuovi tavolini e sedie va dal da quello che fabbrica i tavolini e le sedie e la reazione di quello che fabbrica i tavolini e le sedie stando a quello che è stato detto anche qui deve essere alza il prezzo dei tavolini e delle sedie io dico perché non dovrebbe essere invece incentivato in tutto o in parte a aumentare la produzione di tavolini e di sedie dopo tutto viene detto caspita arriva questo con un sacco di soldi posso fare due cose o alzo i prezzi e o aumento la produzione perché non anche aumentare la produzione ok perfetto grande ottima domanda consiglio a tutti di leggere un articoletto sul foglio scritto da Sandro Brusco che si chiama l'economia di Babbo Natale ha a che fare con questo problema comunque ti rispondo se tu stai guardando un'economia che ha uno slack di produzione tipicamente diciamo un'economia che ha un potenziale alto come il cementificio di cui parlava Gianluca però per qualche motivo non stanno producendo questo arrivo di nuova moneta o capacità di spesa potrebbe far aumentare la produzione senza far aumentare i prezzi è perfettamente possibile scrivere o pensare o anche cercare evidenze di questo tipo assolutamente possibile quindi ok buona idea dove sta il problema il problema sta nel momento in cui tu inizi a pensare di fare questa cosa per far crescere sistematicamente un paese che non cresce da vent'anni cioè una cosa è si collega un po' a quello che diceva Carlo cioè una cosa è l'idea di usare la politica monetaria o fiscale con finalità anticicliche ok è molto importante che se tu lo fai tu sia credibile perché tutte le volte che metti in mano ai soldi e gli stampi perché non lo so qual cementificio sta producendo meno bisogna che chi ti guarda non pensi oddio ma non è che adesso questi iniziano a fare tot per il cementificio tot per i tassisti tot per la loro constituency meno IVA due aliquote perché la strada è in discesa e il problema di queste mosse è proprio un problema di segnale e si ricollega a quel problema intertemporale che io così ti ho fatto vedere in modo super schematico ma perché perché sai c'era una domanda negli anni 80 che era ma perché se la Germania fa un'espansione non becca il target monetario i mercati non cioè non battono ciglio e se l'Italia invece va un po' fuori iniziano a innervosirsi beh la risposta è credibilità se tu sei credibile la domanda allora è come fa essere credibile come fa essere credibile come fa essere credibile la storia dice se sei credibile se il salumiere mi fa credito e io vado lì e non ce l'ho in tasca e dico te li porto domani perché lo fa cioè se tu vedi un tizio che ha sempre credito come mai evidentemente questo tizio deve avere una storia che parla della sua reputazione della sua credibilità se arriva il tizio invece quell'altro che è scappato già due volte è evidente che alla terza volta che chiede il credito ci si innervosisce un po' è esattamente questo il dilemma non c'è una domanda buona per tutte le stagioni una risposta buona per tutte le stagioni alla domanda ma perché non li puoi stampare in realtà ci sono un sacco di argomenti seri sul perché non li puoi stampare devi avere in mente un'economia sistematicamente in sottoproduzione è difficile pensare economie sviluppate anzi quando inizi a guardare un po' le economie del mondo quelle più forti spesso hanno anche una valuta fortissima questa Danimarca che quel signore lì cita a sproposito è un'economia con una valuta fortissima è un'economia fortissima è un'economia da cui i ragazzi laureati migliori non scappano è un'economia che attira i nostri laureati migliori questo è il problema secondo me di cui dobbiamo parlare non di immigrazione di emigrazione cioè i problemi d'Italia non sono problemi monetari sono problemi reali il fatto che se ne vanno i ragazzi migliori se ne vanno le imprese migliori se ne vanno i risparmi migliori non so chi di voi ha un po' di risparmi ma cosa fai investi cioè è un problema è un problema è un problema quindi sì ha perfettamente senso pensare a un'espansione monetaria fatta una tanto così come un tennista che ha un po' di dolore può prendere un antidolorifico non ha senso prepararsi a una maratona a dosi di antidolorifici quello non ha senso quindi siccome noi dobbiamo prepararci a una maratona dimentichiamoci di queste bischerate direbbero a casa mia pensiamo alle cose serie grazie siccome è già stato appurato che Vivi e Bibò ci fanno cioè nel senso ovviamente queste cose le sanno anche loro allora la mia domanda era ma non è che soprattutto uno dei due invece coltivi l'illusione di quello che è il peccato mortale dell'economista cioè uscire dall'euro nell'illusione di poter controllare l'inflazione cioè punti a una situazione alla Turchia direttamente magari non quella di oggi ma quella di qualche anno fa faccio una mozione questo panel è su MMT e politica monetaria io penso che abbiamo avuto la fortuna di avere qua tre esperti persone su politica monetaria che vi hanno spiegato che il problema non è la politica monetaria hanno cercato di convincervi in tutti i modi che l'ultimo dei problemi di un paese come l'Italia è la politica monetaria pensate che deve essere stata una cosa difficile perché è quello di cui si occupano beh a parte il professor Paolo che no non si occupa solo di quello e hanno cercato arrivo te lo do subito e vi stanno dicendo il problema sono le variabili reali sono perché non apre qui mai Apple perché non è mai saltata fuori una roba così quindi vanno bene le domande sull'interazione della politica monetaria sulle variabili reali cioè come può succedere che sbagliando tutto cresce un paese e domani non posso neanche tirare sulla seranda ma vi pregherei non andiamo dietro a Bibi e Bibò parlando di uscire dall'euro o di qualcosa di traumaturgico che si può fare con la moneta perché semplicemente ah regà ve lo dico io che non conto il cazzo rispetto ai miei ospiti non si può cioè non si può risolvere solamente con la moneta alcun che scusate è importante lanciare il messaggio che dopo aver capito cosa vuol dire stampare moneta che ci sono diversi tipi di moneta la base monetaria la moneta che non si possa finanziare il deficit fiscale attraverso la moneta perché il debito va ripagato in mele e non in moneta è importante portare a casa il terzo messaggio che la politica monetaria è utile è utile nel breve periodo non può sistematicamente far crescere un paese nel lungo periodo e che l'efficacia della politica monetaria il suo ruolo dipende dalla qualità delle istituzioni che gestiscono la politica monetaria l'indipendenza che si porta dietro l'implicazione della credibilità quindi è un sogno immaginare che questo paese possa fare come probabilmente farà cioè uscire dall'euro e improvvisamente diventare riuscire a darsi delle istituzioni di qualità credibili ecco in quel caso lì la politica monetaria tornerà potrà essere una leva utile per fare guidare l'economia tenere sotto controllo l'inflazione eccetera ma è è inimmaginabile che se questo paese dovesse fare questa transizione o autonomamente o addirittura per fattori esogeni possa per magia rivestirsi di un abito di credibilità di istituzioni sia fiscali che monetarie credibili il paese sarebbe condannato a una lunghissima stagione di ricerca di credibilità nelle proprie istituzioni che è la lunghissima stagione di paesi che sono in declino da 50 anni 80 anni 90 anni l'Argentina erano dei paesi più ricchi del mondo all'inizio del 900 quando la Turchia è stata colpita l'anno scorso da una crisi finanziaria diciamo il motivo principale per cui i mercati non si fermavano era perché di fatto il potere politico metteva in discussione l'autonomia della banca centrale la qualità delle istituzioni in politica monetaria e fiscale è tutto se partiamo da lì possiamo fare tante cose anche come la Germania fare espansioni monetarie per un po' ma se noi siamo diciamo quelli che alla parte di Capodanno promettono di un po' mezzi ubriachi di andare in palestra no nessuno nessuno ci crederà ma se io al parte di Capodanno dico che andrò in palestra e faccio vedere che ho versato mille euro di tutto l'anno di abbonamento in palestra probabilmente avrò l'incentivo ad andarci in palestra e sarò credibile quando lo dirò ecco la credibilità e la qualità delle istituzioni è centrale ed è uno dei pochi ed è il fondamentale patrimonio pubblico bene pubblico che noi abbiamo acquisito entrando nell'euro no? proprio e gettare al vento tutto questo vorrebbe dire veramente proprio autodistruggerci come paese secondo me è stato veramente una sfortuna che questo euro sia avvenuto con un timing insieme all'ingresso della Cina nel WTO in un momento di declistruttura perché anche io sono io ho discussioni di questo tipo in famiglia cioè pensano tutti che sia un matto le mie zie e così perché sono quello che pensa che non è colpa dell'euro cioè per farvi capire ormai tutti però bisogna dirlo cioè è pazzesco che parliamo dell'euro non è l'euro il problema pensate agli altri paesi pensate alla Spagna e al Portogallo ce l'hanno anche loro l'euro stanno facendo molto meglio di noi pensate a quei poveracci degli svizzeri che sono usciti dal PEC dell'euro per apprezzarsi loro proprio sadomasochisti eppure la Svizzera va benissimo cioè questo continuare a parlare dell'euro e inseguire queste follie sulla linea monetaria è un errore perché io adoro l'economia monetaria mi interessa e la mia area di competenza ma il problema italiano non è l'euro cioè bisogna che di questo insomma su questo si rifletta e si inizia a portare un po' di nuova musica al tavolo così come dicevano che non si vince Berlusconi parlando solo male di Berlusconi che vi piacesse o no però secondo me non si vincono i no euro parlando solo dei euro bisogna far capire che l'euro è un'altra sala qui si parla di economia economia non vuol dire euro con che palline fai i conti con che numeretti economia vuol dire pensare perché si investe o non si investe in un paese che capitale umano hai cosa sai fare perché la Apple non viene qui cioè perché non hai Uber perché hai servizi perché vuoi chiudere i centri commerciali il fine settimana cioè capite noi stiamo discutendo di queste cose ma come fa un giovane io ormai sono un vecchietto ma i giovani se avete girato un po' ma quando sentiamo un governo che ci propone di aiutare l'economia chiudendo i centri commerciali nel fine settimana ma che modello di economia hanno in mente questi signori ragazzi questo è il problema bisogna parlare di economia vera di produttività di incentivi di gente che sa fare le cose che deve essere deve essere aiutata cioè deve trovare la strada e gente invece che non le sa fare non so viene in mente all'Italia che basta se ne devono andare c'è una domanda qua posso un tema di interventismo eccessivo in politica monetaria la notizia della nuova libra di questa moneta con queste caratteristiche che sembrano così innovative insomma che avrà un sottostante credibile affidabile quanto stiamo andando nella direzione paventata da IEC della denazionalizzazione della moneta l'unica conseguenza che sta avendo sull'Italia è che ovviamente i nostri politici miopi lo usano come un argomento per dire allora perché se Zuckerberg può farsi la propria moneta noi non possiamo fare e vedete questo fa parte quindi allora su libra il tema è gigantesco è gigantesco pone tanti problemi proprio fondamentali su quello che sono il ruolo delle banche centrali su quello che è il ruolo del dollaro nel sistema dei pagamenti sia commerciali che finanziari e pone molti temi su come verrà gestito proprio il sottostante di libra ecco è un tema di cui le banche centrali al loro interno stanno discutendo attivamente lo posso dire perché ho passato la settimana scorsa la banca d'Inghilterra non si parlava d'altro proprio il governatore vuol sapere dai propri economisti quali sono le sfide che in un ipotetico mondo in cui non intervenga in qualche modo ma è inevitabile che lo faccia il regolatore quali saranno le conseguenze per le banche centrali è di fatto un possibile trend che uno può immaginare che libra sostituisca il dollaro per esempio e quindi porti una stabilità monetaria di lungo periodo maggiore sicuramente è una valuta paniera che può decollare dal lato della domanda perché ci sarà probabilmente una grande domanda per utilizzare libra sia per trasferire valuta e questo sarà un grande bene soprattutto per i paesi in via di sviluppo bisogna vedere se la domanda sarà grande anche per le transazioni io credo che potenzialmente di sì e il lato dell'offerta di questa moneta che non è chiaro come sarà gestita però mi fermo qui perché il tema è molto complesso non abbiamo il tempo posso poi c'è una domanda no io volevo solo fare un'osservazione e chiedere se è un parere condiviso cioè io ho l'idea che in Italia gran parte dei nostri problemi derivino dal fatto anche che diciamo ci siamo sempre potuti permettere o al massimo la nostra classe politica si è sempre potuta permettere di arrivare a un passo dal baratro salvo poi sostituire il governo con un governo tecnico non assumersi le responsabilità delle scelte fatte per evitare il baratro e poi ritornare il giorno dopo finito il governo tecnico e quindi evitata la buca di poter ricontinuare con la stessa fanfara fino a che non arriva un altro governo tecnico che ci deve salvare eccetera e secondo me anche l'Europa in questo non ha aiutato perché anche l'Europa ci ha assolto in un certo senso anche la BCE da un sacco di responsabilità che ci saremmo dovuti assumere quindi come possiamo cioè nel senso faccio l'esempio della Gran Bretagna la crisi degli anni settanta non poteva che essere risolta da un leader o laborista o conservatore che si assumeva la responsabilità di fare le riforme necessarie per salvare il paese mentre invece in Italia questo ruolo lo si lascia a persone terze come può la classe politica tornare a prendersi le proprie responsabilità di fare scelte anche impopolari ma giuste per salvare il paese ma secondo me bisogna che inizi a considerare l'ipotesi che forse non può perché la classe politica non viene dal niente viene è un po' uno specchio del paese non so è una domanda molto interessante ci sono pochi casi esempi storici in cui è arrivato un politico mi viene in mente a Taturk ma non è che ne sappia tanto che ha imposto una cosa molto diversa da quella che le persone volevano e ha rivoluzionato il modo di fare pensare di solito cioè se questo è il paese e non riusciamo a spostare le opinioni a spostare quello che le persone desiderano per me ormai la generazione diciamo mia e le precedenti sono completamente perse l'unica speranza è che magari i giovani se hanno il tempo prima che non so si chiudano le fronte di vedere posti che funzionano meglio riusciranno a chiedere anche loro più libertà più strumenti altrimenti cioè se non c'è una domanda non arriverà all'offerta e di sicuro non mi immagino non so chi sono i politici di oggi che ti offrano questa possibilità di modernizzazione in realtà una cosa simile è già successo tipo in Australia quando ha fatto passare una legge molto restrittiva sulle armi da fuoco dopo un grande massacro in America questa cosa dicono no non è possibile in Australia è stata fatta chi l'ha fatta adesso non fa più politica è stato un suicidio politico e chi l'ha fatta erano i conservatori che erano al governo hanno detto no basta noi prima avevamo un po' le armi non si può più continuare noi lo facciamo distruggiamo tutte le armi le compriamo da chi le possiede e poi le distruggiamo ha distrutto la loro carriera politica cioè l'ho detto candidatamente a personaggi americani che sono state a chiedere hanno distrutto la loro carriera politica però hanno fatto benissimo cioè adesso a distanza di 15-20 anni tutti dicono è stata una grande scelta ci sono stati più massacri in Australia però ci vuole coraggio per appunto buttare via una carriera al vento e un'ultima riflessione più che altro su questa giornata io appunto io sono statista come l'economia ma in realtà a me non piace però l'economia non piace io faccio meno corsi possibili l'economia perché non me la sento con mia materia però voi me l'avete fatta capire e una cosa che avete detto soprattutto voi che secondo me prende benissimo il punto in realtà di fondo che c'è qui intorno nel paese è che il problema non è Borghi non è Bagnai ma le persone che lo votano perché di Borghi e Bagnai ce ne sono tanti scusate ma il problema perché in realtà all'inizio se io sono una persona ho una credenza A arriva un economista X che mi dice A è giusto quando in realtà A è sbagliato da lì cosa succede a me e io penso bene questo economista sta con me prima di tutto quindi io ascolto lui uno due io ho ragione quindi io mi sento con l'autostima ho un'autostima maggiore poi cosa fanno Borghi, Bagnai persone economisti del genere dicono poi allora la persona dice A siamo d'accordo lui dice B però B non era molto d'accordo con questa persona però la dice in maniera semplice la dice in maniera diretta e quindi lui ci crede ma il problema è che l'economia la statistica tutte queste materie non sono semplici non sono semplici le persone non vogliono capirlo tutti vogliono essere jack of all trade master of none vogliono sapere tutto di tutto ma non funziona così una persona si deve specializzare non è possibile che un macellaio sappia l'economia e la gente non lo vuole capire e questo è il problema grazie a tutti ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti